Benvenuto nel mio canale YouTube dedicato ai mezzi storici. Ti propongo la prima puntata della serie relativa alla storia della leggendaria Lancia Stratos HF, prodotta dall'anno 1973 all'anno 1975. La Lancia Stratos HF, ossia i defidelitli, alta fedeltà in lingua inglese, è una particolare vettura sportiva, concepita espressamente per la partecipazione alle competizioni, dotata di carrozzeria Cove, prodotta dalla celebre casa automobilistica italiana Lancia, a partire dall'anno 1973 e sino all'anno 1975. Indubbiamente si tratta di una delle creazioni della celebre casa automobilistica torinese più amata e rimpiante, poiché, grazie alle sue indiscutibili qualità, essa ha segnato indelebilmente la storia dell'automobilismo, e più in generale quella delle competizioni sportive nelle quali ha gareggiato. Le origini della mitica vettura sono in qualche modo collegate alla presentazione di una concept car, designata come Lancia Stratos Prototipo Zero, che venne esposta per la prima volta durante lo svolgimento del Salone dell'Automobile di Torino, che si svolse tra il 28 di ottobre e l'8 novembre dell'anno 1970, nello stand della carrozzeria Bertone. Tale vettura, dall'aspetto modernissimo, nonché di concezione estremamente innovativa, fu presentata come avveniristico prototipo di berlinetta sportiva dotata di motore centrale, e, per quell'occasione, in mancanza di un propulsore più moderno, venne utilizzato quello normalmente montato sull'Eco-Ede Lancia Full Diacolube HF-1006. Tale futuristica concept car era larga ben un metro e 87 centimetri, alta appena 84 centimetri, lunga soltanto tre metri e mezzo, mentre il valore del suo passo era di poco superiore ai due metri, e pesava complessivamente circa 700 chilogrammi. L'innovativo aspetto esteriore della carrozzeria era frutto dell'estro del grande designer Marcello Gandini, che ricoprì il ruolo di responsabile dello stile della carrozzeria Bertone, a partire dall'anno 1965, e sino all'anno 1979. Tra l'altro Marcello Gandini nel corso dello stesso periodo disegnò le carrozzerie di auto come le celebri Lamborghini Miura e Puntaci, l'Alfa Romeo Montreal, e la Fiat X19. Appare poi assolutamente degno di note il fatto, che una copia pressoché identica esteriormente all'originale comparve, circa 18 anni dopo, in alcune sequenze dell'episodio denominato Smooth Criminal, ossia abile criminale, in lingua italiana, incluso nella scaletta originale del famoso film intitolato Moonwalker, diffuso nelle sale cinematografiche nel corso dell'anno 1988, e girato dal mitico re del pop Michael Jackson, che proprio in quel periodo aveva raggiunto l'apice della sua enorme popolarità. Nonostante si trattasse di una vera e propria concept car, il rivoluzionario studio concepito da Nuccio Bertone aveva gettato le basi per l'effettiva costruzione di un'auto dotata di motore centrale, che consentisse di sfruttare al meglio un propulsore in grado di erogare un'elevata potenza, configurazione nella quale il grande carrozziere credeva moltissimo. Proprio in virtù della sua particolare architettura, associata al suo modernissimo e sconcertante aspetto, la vettura suscitò subito un grande interesse da parte dei vertici della squadra corse della Lancia, all'epoca capitanata dal grande Cesare Fiorio, in quel periodo all'affannosa ricerca della sostituta dell'ancore valida, ma ormai non più recentissima Lancia Fuglia Coupe, che tanti successi sino ad allora aveva raccolto durante la partecipazione alle varie competizioni sportive. Grazie al suo interessamento nacque quindi la mitica Lancia Stratos HF, ossia la prima automobile prodotta in serie, ma in realtà specificamente progettata per la partecipazione alle competizioni sportive, sicché, nel mese di febbraio dell'anno 1971, Nuccio Bertone, accompagnato dal proprio direttore delle pubbliche relazioni, Beppe Panicco, venne sollecitato ufficialmente dai vertici della casa automobilistica Lancia alla presentazione ufficiale del prototipo della rivoluzionaria vettura al direttore generale della stessa, Pier Ugo Gobbato. Successivamente lo stesso Pier Ugo Gobbato, grazie all'appoggio ricevuto da Umberto Agnelli, diede il suo benestare all'approvazione del progetto, e ciò malgrado le mille obiezioni manifestate, tutte interne al gruppo FIAR, che da poco aveva portato a termine l'acquisizione definitiva in seno alla sua organizzazione della famosa casa automobilistica di Chivasso. Inoltre Cesare Fiorio, grazie all'appoggio incondizionato ottenuto da Pier Ugo Gobbato per lo sviluppo della versione definitiva della Lancia Stratos poteva allersi anche della fondamentale collaborazione di una squadra composta da avidi motoristi, disegnatori e meccanici, sicché, nel corso del mese di novembre dell'anno 1971, durante lo svolgimento del Salone dell'Automobile di Torino, nello stand della carrozzeria Bertone fece la sua comparsa ufficiale un prototipo in qualche modo ispirato a quello presentato un anno prima, caratterizzato però da un'impostazione molto più convenzionale, sicuramente meno avveniristica e sconcertante, ma che tuttavia lo rendeva molto più adatto di quello che lo aveva preceduto ad un normale utilizzo quotidiano. Si trattava in definitiva del primo esemplare della Lancia Stratos stradale, ossia un'aggressiva ma compatta Gran Turismo, il cui aspetto lasciava già presagire quello della futura temibile versione da competizione. Tale vettura era più alta, nonché più corta, rispetto alla versione presentata in precedenza, e dotata di porte tradizionali, anziché dell'eccessivamente avveniristico parabrezza basculante, che sul prototipo presentato l'anno prima consentiva l'accesso al posto di guida. Ovviamente l'ancore valido, ma non più recente propulsore utilizzato sul prototipo presentato l'anno prima appariva ormai inadeguato, ed in ragione di ciò, al termine di un'animata trattativa indabolata con i vertici della Ferrari, si optò per l'utilizzo sul nuovo modello del motore V9-6, avente una cilindrata di 2418 centimetri cubi. Si trattava di un brillante ma assai scorbutico propulsore, caratterizzato dall'architettura dei sei cilindri a V di 65 gradi, in grado di erogare la notevole potenza di 190 cavalli, dotato della distribuzione a doppio albero a camme in testa per ogni bancata, e due valvole per cilindro, mentre la sua alimentazione avveniva tramite tre grossi carburatori doppio. Corpo Leber 40, tra l'altro già utilizzato dal gruppo Fiat in precedenza per equipaggiare la Fiat Vino 2400, nella versione Spyder Equiope. La leggerezza della scocca della vettura, associata alle ottime caratteristiche del propulsore che la equipaggiava, gli consentivano di raggiungere la velocità di 100 km orari in poco più di 5 secondi, mentre la velocità massima raggiungibile superava i 230 km orari, valori questi in assoluto notevoli ancora oggi, ad oltre mezzo secolo dall'esordio ufficiale del particolare modello. Successivamente, nel corso dell'anno 1973, i tecnici che lavoravano nel reparto corse e lancia sottoposerotale propulsore ad un'ulteriore incisiva elaborazione, dotandolo di testati a 4 valvole per cilindro, e rendendolo in grado di erogare una potenza di ben 240 CV. Qualche tempo dopo, a partire dalla seconda metà degli anni 70, il propulsore della Lancia Stratos HF venne ulteriormente potenziato, mediante l'adozione di un grosso turbocompressore, che gli consentiva di erogare, a seconda della pressione di sovralimentazione impostata, potenze molto elevate, comprese tra i 330 CV e i 420 CV. Spero che questo video sia stato di tuo gradimento. Se vuoi metti un bel mi piace, commentalo, condividilo, iscriviti al mio canale, e aggiungilo ai tuoi preferiti. Ogni settimana pubblicherò non meno di due video, dedicati ai mezzi storici. Arrivederci dunque al prossimo video.